Musica Appena me l'hanno detto, è tutto, e com'è successo? E com'è successo? Avevo perduto sabato e l'hanno lasciato bello pulito! Mi si muore un po' giusto domenica sera, e l'hanno trovato un po' sul letto, beh? E di sul letto, stai lasciato giù, povero papà! Mamma mia, come mi dispiace! E' molto contento! E' molto carina! Oh sì, sì, è molto contento! Mi l'ha detto l'amico, l'ha vestito ed assistito fra la fine, e' molto ingerazza sua! Comunque, vedete se voi potete essere utile, da un modo, se voi potete essere utile! No, no, grazie del pensiero, non ne serve a niente! Non vi preoccupate, se ne serve di alcuna cosa per mandare a chiamare! No, veramente, abbiamo fatto delle chiamate a io! Ah, diciamoci loro che non era il tuo papà, no? Se no, non mi amici, facciamo due pochi! Che volito, un servizio completo! Che giardinario! Ho vinto con l'altro! Oh, e perché? Come sono questi servizi? Ci chiamiamo di una maniera sola, ma? No, non ci chiamiamo! Ci chiamiamo di un servizio completo! E non è più lusso! Per farci la giocetta classica, un riapto, e c'è proprio la giocetta di faccia! E poi c'è incerta, che per la gioia, come si dira le capitelli o si dira il nonchio! Eh, è un bello servizio davvero, mamma! Però chissà quanto costa! Eh, perché c'è? Questo servizio è buono! Sbaracano legno! Come si dice? Vada caro! E sei da ben paro! Però tra l'anno funerale, la felice mamma di Peppinozzo, la faccio! E faccio la grudata! Quando ci chiusciamo questi anni, e quando Peppinozzo nasce dalla casa, ci vedete che è un po' come scornetto! Va bene, ma fate ringrazio! Che poi stava pensando, no? Che pure che c'è l'amicizia, come me e tia! Cos'è che si può pretendere che uno servizio si fa regalato, no? Senza sorte! O se ne cantano messe! Dice un piu' la garabatessa! E senza sorte! O se ne cianciano molte! Comunque non è caso! Un funerale c'è domani! Voi quando è che potete venire? A spiegare l'agenda che noi siamo una tutta seria! A fine settimana, tenemolo giugiasi male a soffa! E poi tenemolo con mezzo di funerale! Bapò, l'hai capito che sei impegnata, sì! Comunque, il funerale c'è domani, te l'hai detto, è tu un abbandonare! Fallo con il buonanime del papà, ove? No, per l'altro mio buonanime! Ti scatto qui! Io non lo so, per l'altro mio padre! Però, veramente noi ad ogni punto la ricamiamo! Una bella facciamo sbubbato! Ah, sì? E fa bene! Fa tu e fa tutto! Volete i cianciani malamenti per farci comparire? Al limite veniamo quanti anni in questi anni che facciamo bella ferrata! Ma benissimo! Accomodate, facete tutto quello che volete! Facete le mocivà! Ma come si buttano molti nel vostro? Però, ... 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 Se la vera mi fermare, se la vera mi fermare. E' stato dopo lo cuore, una grata, accompagnata. Pepe, Pepe no, è il spiglio di Pepe no. Ay come si pia, do. Ay quanto cosa te vuole rater, Pepe! Pepe no! Pepe, come ripi, quando passa a visagiazza, Pepe no. Ay quanto ma sta sola e sta mangiando, Pepe no! Rispigliate petito, rispigliate o te cosa pittinio gente. Oh come è freddo freddo c'è, oh come è freddo freddo come la mamma patuta, oh che su un cuzzo brutto per arlazare pepe, oh pepe, oh quanto costo voler a dire pepe, e non ti puoi sorire, pepe, oh pepe, agire a dormire a rapino pepe, regalo, pepe, oh che t'l'ambina, che t'l'ambina, che t'l'ambina, che t'l'ambina, a dire pepe, oh come è freddo, oh come è freddo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.